Olibet TV è l'unico canale che ti permette di sbirciare nel mondo fiorentino. Dopo la grande prestazione di domenica scorsa contro il Napoli, che ci lascia anche un po' di amaro in bocca perché la vittoria era assolutamente alla nostra portata, appuntamento quindi alla Dacia Arena contro l'Udinese di Mister Sottil, papà del nostro Riccardo Sottil. Nonostante il cambio di allenatore, l'Udinese si sta rivelando essere avversario insidioso per tutti ed è a caccia della prima vittoria in casa. D'altro canto anche la viola, da mina vagante, adesso ambisce a tornare la solida realtà di qualche stagione fa, viste le conferme in Europa. Lo scorso anno all'andata abbiamo vinto fuori casa per 1-0, ma a ritorno al Franche abbiamo incassato ben 4 gol, per cui ci sarà certamente voglia di rivalsa. In totale sono 92 le partite di Serie A tra le due squadre, di cui ben 43 vittorie della Fiorentina, 22 dell'Udinese e 27 pareggi. I friulani scenderanno in campo col solito 3-5-2 con una rosa ben consolidata. Sono infatti 9 su 11 i giocatori titolari già dall'anno scorso, ma domenica Perez non ci sarà per squalifica. Dall'altra parte, Mister Italiano, oltre a fare i conti con ben 4 infortuni, dovrà valutare come comporre il suo 4-3-3 anche in vista del match contro la Juventus solo tre giorni dopo. E si sa che a Firenze questa non è una partita per cuori deboli. Dal mondo fiorentina e da Olibet TV è tutto per oggi.